vediamo come costruire una scala con Revit questa è la scala completata come si può vedere sono due rampe, un pianerottolo una ringhiera, la scala è in cemento armato con la pedata e l'alzata rivestita in credo marmo, la seconda dei gusti la scala è inserita dal piano terra al primo piano di un edificio che qui non viene disegnato e quindi si ancorerà alla soletta del primo piano cominciamo a disegnarla però a partire da un disegno 2D fatto con AutoCAD quindi importiamo un disegno da AutoCAD che è un disegno in pianta pianta e sezione bidimensionale quindi e da queste due viste costruiremo la scala 3D bene, cominciamo lasciamo questo nuovo ovviamente fa il modello metric ita, va bene quindi questo è il nuovo disegno ci mettiamo nella vista planimetrica e da planimetrica facciamo insert import a CAD abbiamo già preparato e ovviamente realizzato in AutoCAD una scala in 2D osserviamo però questo prima di importarlo colori mantieni layer solo i layer visibili anche se in realtà li abbiamo preparato in maniera che tutti i layer utilizzati e utili sono visibili però quindi importiamo solo quelli visibili solo nella vista corrente non vogliamo che la scala sia importata in altre viste unità di misura sappiamo che è il metro quindi vale la pena di specificarlo automatico da centro a centro perché posizionerà la scala al centro della vista bene l'abbiamo scelta dvg apri abbiamo importato quindi la scala l'ha posizionata al centro come si può vedere rispetto anche al disegno e quindi questa qua è la nostra scala già in colori che erano i colori originali andiamo a vedere una particolarità di questa scala importata andiamo su vista grafica visibilità grafica notare che è sufficiente anche digitare vg da tastiera quindi vg visibilità grafica abbiamo questa finestra dove sono riportate le categorie quindi la visibilità degli elementi grafici non ci interessa le categorie del modello né le categorie di annotazione quanto invece le categorie importate e questo è il nostro disegno dvg che abbiamo appena importato abbiamo riportati quindi abbiamo abbiamo visualizzati tutti i layer possiamo anche in questo caso nascondere dei layer però è molto consigliato preparare già il disegno in AutoCAD in modo che in Revit non ci siano da fare delle variazioni oggetti famiglie possiamo anche disattivare il resto l'abbiamo già preparato quote le teniamo e così via quindi abbiamo importato il nostro disegno possiamo anche fare una query sul disegno ad esempio un gradino chiedere al sistema qual è il layer qual è lo stile e così via quindi fare delle interrogazioni cosa che però a noi in questo momento non interessa perché ci interessa solamente avere la pianta sulla quale poi trasformare quindi costruire una scala 3D grazie 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 grazie